Giuseppe Garibaldi, noto come l'eroe dei due mondi, è stato un generale, patriota, rivoluzionario e repubblicano italiano. Ha contribuito all'unificazione italiana e alla creazione del Regno d'Italia. Garibaldi è diventato un simbolo internazionale dell'indipendenza nazionale e degli ideali repubblicani. Nato il 4 luglio 1807, Garibaldi ha avuto un ruolo fondamentale nel movimento del risorgimento italiano. È stato uno dei principali protagonisti della lotta per l'indipendenza e l'unificazione dell'Italia nel XIX secolo. La sua figura è associata alla conquista della Sicilia e di Napoli con i suoi camice rosse, un gruppo di volontari che si battevano per la causa dell'unità italiana. Garibaldi ha condotto numerose campagne militari, dimostrando abilità strategiche e coraggio sul campo di battaglia. Le sue vittorie hanno contribuito a consolidare l'unità italiana e a sconfiggere le forze che si opponevano all'unificazione. La sua figura è diventata un simbolo di speranza e di lotta per la libertà in Italia e in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera militare, Garibaldi è stato anche un fervente sostenitore dei valori repubblicani e democratici. Ha lottato per l'abolizione della monarchia e per l'instaurazione di un governo democratico in Italia. Il suo impegno politico e sociale ha ispirato molti altri leader e movimenti nel corso della storia. Garibaldi è stato anche un personaggio controverso, con opinioni politiche e strategiche che hanno suscitato dibattiti e critiche. Tuttavia, il suo contributo alla causa dell'unificazione italiana e alla lotta per l'indipendenza è indiscutibile. Giuseppe Garibaldi è morto il 2 giugno 1882, ma il suo lascito e il suo spirito di lotta per la libertà e l'unità continuano a ispirare le generazioni successive. La sua figura è ancora oggi celebrata come uno dei grandi eroi della storia italiana e come simbolo di coraggio e determinazione in conclusione. Giuseppe Garibaldi è stato un eroe dei due mondi. Un generale coraggioso e un patriota appassionato che ha contribuito in modo significativo all'unificazione italiana e alla creazione del Regno d'Italia. La sua figura rimane un simbolo di speranza e di lotta per la libertà, e la sua eredità continua a ispirare le persone in tutto il mondo.